Una casetta completamente apribile in modo da essere ispezionabile, pulibile, con la porticina basculante, le finestre apribili per l'estate dove i gatti possono entrare e uscire. Penso che sia molto funzionale e spero sia gradita ai nostri amici animali. Una casetta per i mici della colonia Fellina di Quarata, realizzata interamente con materiali di recupero. A realizzarla uno dei volontari della Leida, la Lega Italiana per la Difesa Animali e Ambiente. Ho interamente ideato, progettato e realizzato con le mie mani, usando tutto il materiale di riciclo, di pancali in legno. Questa casetta è la prima del progetto dove poi seguiranno altre casette, più grandi anche, dove i gatti potranno comunque anche rilassarsi d'estate perché faremo una bellissima veranda e dove possono anche ripararsi dal caldo. Circa una ventina i gatti della colonia Fellina di Quarata a prendersi cura di loro, Loretta ed Iside anche grazie al sostegno della Leida. Ha fatto una bella casa, si va tutti i gattini e meno male perché almeno d'inverno avevano il suo posteggio qui. Siamo felici perché questi animali devono stare bene.